Servizi educativi per l'infanzia, scuole e università chiuse fino al 15 marzo, sospesi viaggi di istruzione, le visite guidate e programmate dalle istituzioni scolastiche, sospesi anche congressi ed eventi sociali, così come le manifestazioni, gli spettacoli di qualsiasi natura, ad esclusione della zona rossa, sia eventi e competizioni sportive, ma a porte chiuse o all'aperto senza pubblico. Sono solo alcune delle disposizioni riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus, previste dal nuovo DPCM del 4 marzo, firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una nuova stretta del Governo varata per arginare la piaga del coronavirus. Numerose sono poi le disposizioni di tipo sanitario contenute nel decreto. Fra queste, il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario. L'accesso dei parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e nonna, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali disposizioni saranno valevoli fino al 3 aprile. Da segnalare poi che fra le realtà del territorio locale che hanno rimodulato le proprie attività per far fronte a Covid-19 anche il Tribunale di Belluno. Sono rinviate tutte le udienze civili e penali fissate entro il 31 marzo compreso, esclusi procedimenti relativi a detenuti o internati per questa causa o sottoposti a misura non custodiale o comunque urgenti. Per i procedimenti da trattare le eventuali udienze saranno tenute a porte chiuse.